Buongiorno ragazzi di Terza, oggi cominciamo il ripasso e andiamo a vedere i numeri relativi. Allora, che cosa sono i numeri relativi? I numeri relativi sono numeri provvisti di un segno. Quindi, se prima avevamo i normali numeri naturali, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eccetera. Ora andiamo a vedere un nuovo tipo di numeri il cui valore, la grandezza del valore, è relativa rispetto alla posizione dello 0. Quindi lo 0 non sarà più all'inizio a sinistra, ma sarà in mezzo. E i numeri saranno positivi o negativi a seconda che si trovino a destra o a sinistra. Quindi relativamente allo 0. E quindi avremo più 1, più 2, più 3, più 4, meno 1, meno 2, meno 3, meno 4. Quindi, in poche parole, cosa sono i numeri relativi? I numeri relativi sono numeri provvisti di un segno. Quindi, se io prendo un numero relativo, il meno 3, il meno 3 è formato da un segno e da un valore assoluto. Se io prendo il più 5, abbiamo il segno e il valore assoluto. Ora, che cos'è il valore? Allora, prima di tutto il segno. Il segno può essere meno, e si dice negativo, o può essere più, e si dice positivo. Che cos'è invece il valore assoluto di un numero relativo? Il valore assoluto si indica con il numero indicato tra due barre verticali. Per esempio, il valore assoluto di più 4 è uguale al numero privato del segno. Quindi, 4, il valore assoluto di meno 5, equivale a 5. Il valore assoluto di più 8, equivale a 8. Quando si parla di numeri relativi, si è scelto come, per definizione, come una scelta arbitraria che se di un numero noi scriviamo questo numero senza segno, si intende sempre un numero positivo. Quindi, se noi scriviamo 4, intendiamo più 4. Mentre un numero negativo va sempre esplicitato il segno. Quindi, se io scrivo 5, intendo più 5. Se invece voglio dire meno 5, devo sempre esplicitare il segno. Meno 5 è uguale a meno 5. Non posso scrivere meno 5 come 5. Se io ometto il segno, posso omettere solo il segno positivo. Grazie.